Cresce di ora in ora l'attesa per la finale degli europei di calcio, la sfida tagliazzurri di Mancini e l'Inghilterra di Southgate in programma domenica alle 21 nel leggendario stadio di Wembley. Molti di noi seguiranno l'evento a casa o nei locali pubblici. A Tirano si potrà vedere la finalissima sul maxischermo allestito in piazza Unita d'Italia, un'iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra la cooperativa Intrecci e l'amministrazione comunale. Il maxischermo è stato infatti già utilizzato nei giorni scorsi per il cinema all'aperto. L'area è cintata, 2000 metri quadrati all'interno dei quali si può accedere solo prenotando i posti a sedere sul sito eventbrite.it. Con questa modalità, spiega il sindaco di Tirano Franco Spada, la tracciabilità degli accessi è garantita. Una proposta che abbiamo pensato soprattutto per le famiglie per poter vivere in tutta sicurezza una serata di sport e socialità. Per la notte della finale in tutta la provincia le forze dell'ordine saranno impegnati in servizi che puntano a rispetto alle norme anti-covid e di ordine pubblico.